Il distributore impazzisce e decine di automobilisti fanno il pieno di benzina gratis. A causa di un malfunzionamento della colonnina, verosimilmente dovuto ad un guasto tecnico, un distributore di benzina che dopo le 20 funziona in modalità self-service ha erogato carburante gratis a tutti. In tanti, non credendo ai propri occhi, hanno fatto il pieno. Una situazione proseguita per ore prima che il problema al misuratore della colonnina venisse scoperto ed è intervenuto il titolare dell'impianto a bloccare immediatamente l'erogazione. È accaduto mercoledì sera nella località balneare di San Leone. Dopo la segnalazione al 112, nella zona si sono portati i carabinieri del comando provinciale di aggregento e dopo un sopralluogo hanno avviato gli accertamenti del caso. Adesso chi non salderà la spesa rischia una denuncia per appropriazione indebita. Da una prima ricognizione sembra che il guasto sia costato caro al titolare, circa 5.000 euro.